Diana e Tua! Sì! Fermi, fermi, fermi! Dobbiamo controllare! Avanti! Cosa? Oh! Posso aiutarti con Oliver? Ok! Oliver, ciao! Sì! Dov'è Oliver? Sì! Roma, avanti! Sono così intelligente! Sì! Dov'è l'Africa? L'ha trovata! Sei! Quattro! Otto! Vieni! 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 non sono così poco creativa che bello! non è tutto farò un accessorio per i capelli ecco qui, l'accessorio è pronto! sì! Roma, dai! pulire? io sono pulita cosa? mostrami le tue mani vai vai, lavati le mani ora le mie mani sono pulite per il nostro gatto flasca! 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 oh! si! siete pronti? no! 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 Ciao!